Salus a 16 marzo 2011. Mentre i problemi sulla Terra diventano più preoccupanti, ricordatevi che laddove gli oscuri usano la forza per raggiungere i loro obiettivi, la luce agisce più finemente. Essendo correlata in tutto il pianeta, quando stimola un'azione, di solito è estremamente potente e non può essere fermata da alcun mezzo tradizionale. È, infatti, la forza più potente dell'universo e, di conseguenza, a prescindere da qualsiasi forma di resistenza, raggiungerà sempre il suo scopo. In questo periodo, la luce sta aumentando il suo grado di potenza e continuerà a farlo lungo tutta la strada verso l'ascensione. Cercate di non essere soprafatti dai disastri che stanno accadendo, sapendo che produrranno un risultato positivo, che vi porterà ad un livello ancor più alto. Gran parte di quanto accaduto era previsto e si riferisce al karma talvolta a livello di gruppo, che deve fare il suo corso. Dal nostro punto di vista, tutto procede secondo programma e, alla fine, l'universo ascenderà. Molte cose possono accadere in breve tempo, e con il passare dei mesi, gli avvenimenti diventeranno alquanto frenetici. La gente sta cominciando a prendere in mano il proprio futuro e non ne vorrà più sapere dei vecchi metodi. Ha capito che quelli che si spacciavano per governi democratici in molti paesi del mondo, erano in realtà totalitari e non rendevano conto del loro operato. Di fatto, in molti di essi il voto è una mistificazione e sono dittature, che pensano solo ai loro interessi, negando al popolo ciò che gli è dovuto. Svegliandosi a quel che sta succedendo, la gente ha sbarrato la rotta agli oscuri ed aperto le opportunità di cambiamenti di regime. Non solo, ma quando accade, si tratta di cambiamenti completi, con una nuova politica, che rimedierà ai torti di parecchi secoli. Queste nuove energie di cambiamento rafforzeranno l'impegno delle caranime che si sono fatte avanti per sfidare le vecchie strutture. I loro sforzi saranno sostenuti da noi e noi le guideremo alla vittoria, che spalancherà la strada verso l'ascensione. Il tempo continua ad accelerare e questo è un segno sicuro, che siete già ben inoltrati sulla strada, che conduce al grande elevamento del 2012. Per ciascuna anima la vita continua, a prescindere da quel che crede che effettivamente avverrà una volta raggiunta tale data. In parte, il vostro futuro lo create voi stessi, fermo restando che l'atto finale sarà l'ascensione. Non vi è alcun bisogno di grandi catastrofi o disastri in cui la gente perisce in massa, per giungere a tale data l'unico legame tra i due è che è necessario ripulire la terra affinché sia pronta ad ascendere con voi. Di conseguenza, i mesi restanti comporteranno avvenimenti di ogni genere, che gradualmente diventeranno più accettabili e provvidenziali per tutti. Per allora, saremo certamente stati ricevuti quali ospiti del vostro pianeta, in realtà siamo già stati accettati e la quantità di persone, che si rivolge a noi aumenta di giorno in giorno. La rotta è quella della vostra liberazione dagli illuminati, che sono ora agli ultimi, disperati tentativi di ritardare o impedire l'ascensione. I loro giorni sono contati e ben poco tempo resta loro per continuare ad opporsi a noi. Sarà con grandissimo piacere, che finalmente scacceremo gli oscuri dalle loro posizioni di potere e faremo conoscere gli esseri di luce, che attendono quest'occasione per sostituirli. Si tratta dei nostri alleati, che hanno già fatto tanto per creare una struttura a sostegno dei nostri piani per la vostra liberazione. Inoltre, tanti, tantissimi di voi si sono specialmente incarnati in questo periodo per prendere parte agli ultimi giorni della vecchia terra. Ognuno di voi ha qualcosa da offrire e sarà chiamato al momento opportuno. ci sarà tanto da fare da esser sicuri che, persino a livello di comunità locale, avrete molto di chi occuparvi. La nostra comparsa nei vostri canali televisivi ci metterà in grado di raggiungere la gente e dissipare i dubbi, che eventualmente sussistano sulle nostre intenzioni. Ci daremo la pena di spiegare in dettaglio perché siamo qui, nonché il piano per condurvi alla fine dei tempi. Vi serviamo tramite la federazione galattica e l'ascensione non segnerà la fine della nostra presenza tra voi perché se così sceglierete saremo i vostri compagni di viaggio attraverso le galassie. Vi sarà possibile visitare la dimora delle civiltà, che abitano nelle dimensioni superiori e sarete accettati come uno di loro. A dir poco, sarete diversi da quel che siete ora, perché dovete ancora elevarvi a più alti livelli vibratori. Quando lo avrete fatto e potrete operare da un livello di coscienza superiore, allora sarete veramente degli esseri galattici, questo è il vostro obiettivo presente e vi daremo ogni aiuto per riuscirci. Queste sono tutte questioni, che dovremo spiegarvi e, chiaramente, sarà molto più facile farlo quando saremo apertamente tra voi. Avremo un comune legame con quelli di voi che ascenderanno, perché significa che avrete piena cognizione della sorgente e che essa è tutto ciò che è. Rispetto, amore e gratitudine sono il nostro omaggio al Creatore e sappiamo che molti di voi condividono tali sentimenti, è anche molto importante, che conosciate la verità in merito, e tutto questo vi sarà spiegato a tempo debito. La fede in Dio vi farà avanzare fin quando potremo insegnarvi di più, anche se occorre dire che molti saggi maestri sono già sulla Terra. Noi non seguiamo una religione in quanto tale, perché tutta la conoscenza risiede interiormente in ognuno. Lo è anche in voi, ma vi riesce difficile entrare in contatto con questo livello della vostra coscienza. Nel frattempo, abbiate fiducia nel potere della vostra intuizione e seguite i suoi suggerimenti. Io sono il Siriano Salusa e osservo la continua evoluzione della coscienza di massa nel vostro mondo. Ad ogni catastrofe, un vagliore d'amore sale dalla Terra, indicando quanto calore e compassione sentite per chi ne è vittima. Questo sta unendo la gente, che sente il bisogno di rinunziare a qualunque egemonia per creare un nuovo mondo, fondato sulla sollecitudine e l'amore per il prossimo. È veramente notevole vedere quanto cammino avete compiuto in tanto poco tempo. Lo speravamo, ma fino a quando non è giunto il momento, non c'era alcuna certezza su quel che sareste riusciti a realizzare. L'ascensione è, comunque, una decisione del Creatore e nessun altro, salvo il Creatore stesso, potrebbe cambiare ciò che fu decretato. Saperlo è sicuramente rassicurante per voi, perché significa non avere alcun timore o preoccupazioni sulla fine dei tempi. Noi della Federazione Galattica siamo pronti a spostarci ovunque con solo qualche minuto di preavviso, e ben allenati per assistervi in ogni modo. Grazie, Salusa. My Quincy Traduzione Costanza 2003